Buonasera mister, abbiamo detto sicuramente un punto d'oro guadagnato dal Pescara, il Livorno ne perde due, però a noi interessa il punto del Pescara. Sì, abbiamo fatto un punto in una partita difficile, dove lo aveva detto. Sì, sapevo che cosa andavo incontro, sapevo che quando giochi contro queste squadre molto aggressive, in ambiente caldo, esperti, con grande fisicità, abbiamo sofferto. E' inutile negare l'evidenza. Poi nel secondo tempo abbiamo cercato di parare un po', cercando di mettere più peso nella fase offensiva, mettendo una punta in più, spostando dal 4-4-2 poi al 3-5-2 finale. Siamo riusciti a portare a casa un punto importante. Che cosa non ha funzionato in particolare nel primo tempo? Un centrocampo, forse in inferiorità numerica, poi si è tentato appunto nella ripresa, però fatto sta che il Livorno ha colpito due legni e poi c'è stato Fiorillo che ha compiuto almeno una, ma forse due parate strepitose. Sì, sì, noi abbiamo subito la loro aggressività, sono stati più bravi di noi, però l'importante di questo campionato è dare continuità ai risultati. Siamo riusciti in una partita non buona nostra a portare a casa un punto che è molto importante. Lei si è arrabbiato molto dalla panchina, lo abbiamo visto agitarsi, perché vedeva i suoi in sofferenza sportiva proprio. Che cosa ha pensato in quei frangenti? Che cosa voleva che i suoi giocatori facessero e non hanno fatto? Beh, la prima mezz'ora non abbiamo sofferto per niente. I primi 20-25 minuti no, però dopo? Dopo abbiamo sofferto, dopo il palo loro hanno preso coraggio, noi abbiamo sbagliato tante palle in uscita, tanti appoggi sbagliati. Tecnicamente abbiamo sbagliato tanto, di solito noi siamo una squadra molto tecnica, nel fraseggio siamo bravi, oggi non è stato così. Dobbiamo lavorarci su, è un periodo un po' così, non siamo brillantissimi, sbagliamo parecchie cose e dobbiamo lavorarci. Bisogna resettare tutto perché domenica ci sarà il Brescia, scontro d'alta quota. Non vuol dire resettare tutto. Resettare e imparare dagli errori. Vuol dire... Dimenticare. No, gli errori ci sono stati, però non abbiamo perso, perché è resettare la vostra prestazione. Sembra che facciamo tutto, no, dobbiamo stare a calmi, cercare di essere concentrati sul lavoro, cercare di migliorare dove sbagliamo e andiamo avanti.